Il coronavirus non ferma neanche quest'anno il campo di lavoro e formazione missionaria in programma dal 19 al 25 luglio. Il campo ha come scopo di far trascorrere ai giovani un'intera settimana vivendo importanti esperienze di fede, condivisione, amicizia, servizio e soprattutto di animazione e formazione missionaria nelle diverse parrocchie che durante la settimana accolgono i ragazzi. Il centro missionario che quest'anno compie 40 anni di attività grazie ai due nuovi direttori Marco Caverni e Martina Mercurio e a tutta l'equipe degli animatori ha pensato di ideare un'edizione diversa dal solito dovuta al contenimento dell'emergenza Covid-19. I ragazzi non parteciperanno fisicamente al campo ma seguiranno le formazioni e le testimonianze attraverso i social e le dirette online. Per esempio la formazione la vivremo tramite le piattaforme Zoom che ormai ci accompagnano da un po' però sono veramente importanti perché quest'anno vivremo la formazione con tantissimi missionari sparsi per il mondo e riusciremo a vivere l'esperienza formativa ecclesiale nel migliore dei modi pienamente in stile missionario. In più quest'anno abbiamo pensato a un momento per rivederci tutti insieme infatti l'ultimo giorno di campo ovvero il 25 luglio ci rivedremo in totale sicurezza a vivere una messa all'aperto a Villa Prelato. In totale sicurezza vivremo quindi e concluderemo questa esperienza formativa per tantissimi giovani della diocesi. Connessi dalla carità è dunque il tema del campo 2020 che ha come scopo di restare connessi uniti e legati non solo dalle tecnologie ma anche dallo spirito missionario che accomuna i partecipanti in questa esperienza. Le iscrizioni sono già state aperte domenica 21 giugno e davvero invitiamo tutti tutti i ragazzi della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola a prendere parte a questo CMD 2020. Ci si può iscrivere tramite i nostri canali social e anche sul sito cmdfano.it. Come ogni anno avremo un padre missionario che ci seguirà quest'anno è padre Diego Perlizzari direttamente dal Brasile. Lui sta vivendo in prima persona questa emergenza sanitaria e sarà proprio lui nei giorni del campo a spiegarci e davvero farci una formazione completa riguardo al tema connessi dalla carità di quest'anno del CMD. Inoltre avremo anche la possibilità di ascoltare più voci di missionari sparsi nel mondo dal Giappone fino agli Stati Uniti e perché no anche dalla Thailandia. L'edizione di quest'anno è organizzata dal Centro Missionario della Diocesi in collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Caritas, l'Ufficio Migrantes e dai Missionari Saveriani.